C'è una nuova torre che dal parcheggio della stazione si alza troneggiando a fianco al Cavalca Ferrovia. La vedete alle mie spalle? È stata infatti issata da ieri la torre di telefonia, possiamo dire la ormai famigerata antenna 5G che nei piani iniziali doveva sorgere nel quartiere di Soria, nello spicchio verde tra Lungofoglia, Via Nobiliore e Via Donzelli. Ipotesi che nella scorsa primavera scatenò l'accesa protesta di residenti che quella maxi antenna proprio non la digerivano. Non la volevano piazzata in mezzo alle loro case, tra l'altro di recente edificazione, non la volevano perché tenuti all'oscuro del progetto e perché attanagliati dai mille dubbi sugli effetti per la salute pubblica di quella simile installazione. Dubbi che il comune fugò con una serie di incontri formativi con esperti medici scientifici, ma il comitato nato per dire no all'antenna e sostenuto anche da associazioni quali Lega Ambiente Italia Nostra arrivò a una raccolta firme che superò i mille firmatari alla petizione. A fine estate, se arrivati ad una mediazione fra comune, comitato e società Iliad, è stata abortita la collocazione di Soria e dirottata sul parcheggio della stazione dove in questi giorni si sta completando l'assemblaggio. Qui ruba solo un paio di stalli e evidentemente crea molti meno malumori. Comitati di cittadini che però restano vigili perché resta in piedi l'ipotesi di un'altra installazione di torre di telefonia nel quartiere di Montegranaro Muraglia, quartiere che al pari di Soria nello stesso periodo sollevò analoghe insurrezioni di popolo. Una partita questa ancora aperta dove si cerca una soluzione più collinare per conciliare un piano di rete mobile del comune che prevede l'installazione di ben 11 antenne dello stesso genere di questa alla stazione.